Nella naturale scenografia di una delle più belle ed invidiate località turistiche del Salento, Gallipoli, inaugura il Dolly Multistore. Si tratta di un innovativo progetto della nota catena di pelletterie che in occasione del rinnovo dell'aredamento della boutique di Gallipoli ha concepito un nuovo format più consono alle esigenze della città bella in cui il perimetro del negozio è diviso in corners alla stessa stregua di un department store. La superficie di oltre 400 metri quadri è stata completamente ristrutturata dall'interior design Marco Terrio attraverso l'utilizzo di materiali biocompatibili e soluzioni luminose e tecnologiche d'avanguardia. Per presentare i nuovi corners, Tosca Blu, Barcellini, VJC, Versace Jeans Couture, Piero Guidi, Alviero Martini, Borbonese, The Bridge, Bricks, Gattinoni, Armani Collezioni e Armani Jeans. Sono quasi dieci anni che abbiamo sancito la nostra presenza qui a Gallipoli in questa nostra meravigliosa filiale e ci sembrava opportuno quasi allo scadere del decimo anno dare al pubblico una impronta differente del nostro spazio dando la possibilità alle nostre aziende storiche di presentarsi al pubblico con i loro arredi riconoscibili a livello internazionale perché anche il turismo che affollano questa città durante il periodo estivo potessero facilmente riconoscere attraverso gli arredi i marchi presenti nel nostro contenitore. Per questo il nome Multistore perché si presenta di fatto al pubblico con una veste differente rispetto alle dolli, alle filiali dolli esistenti negli altri paesi. L'insegna Dolly è il marchio di Armani e per noi è un traguardo molto importante e sicuramente una collaborazione che ci auspichiamo possa durare per il futuro i successi non si sono fatti attendere già dalle primissime battute. Per l'inaugurazione del Multistore Dolly ha pensato di coniugare la moda con l'arte per questo la performance dei cantieri coreografici con la direzione artistica di Sonia Norma Marino dell'Oistros Balletto di Galatina. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Un'esplosione di colori e di movimenti liberi per esternare il bello in tutte le sue espressioni è una bellezza che parte dall'interiorità dell'animo e si esplica nei movimenti fluidi delle ballerine dell'Oistros. Grazie per la visione! Nel trucco televisivo c'è molto camuflage e molti correttori bisogna studiare molte luci per correggere le ombre invece nelle sfilate sono molto evidenti magari i zigomi oppure lo sguardo o anche soltanto le labbra perché in base alle sfilate c'è molto discorso del total look, dell'abbigliamento cosa invece che nel trucco quotidiano è molto più blando. Grazie per la visione!